Ho scelto di fare il servizio civile perché volevo intraprendere la mia prima esperienza lavorativa in un ambiente dinamico e giovanile, in cui mi fosse concesso di usare la creatività e di organizzare sempre attività nuove. La mia esperienza come volontaria mi ha reso responsabile e mi ha insegnato a gestire compiti che non pensavo di poter svolgere, mi ha fatto capire che in ogni decisione è necessario considerare più punti di vista e che prendere le decisioni in gruppo significa arrivare ad un compromesso. L'esperienza del servizio civile è una prima porta verso il mondo lavorativo che vale la pena di essere attraversata.